studenti ragazzi appena affacciati al mondo del lavoro in cerca di una propria casa in attesa di realizzare il proprio progetto imprenditoriale sono il campione di riferimento dello studio realizzato da irpet per valutare l'impatto del progetto giovani si della regione toscana che dal 2011 ha aiutato 231 mila giovani in cerca della propria autonomia quattro le misure di giovani sia al centro dello studio finanziato con le risorse del fondo sociale europeo e raccolto nella pubblicazione intitolata effetto giovani si tirocini non curricolari contributi per l'affitto co-working e fare impresa l'analisi ha preso in considerazione tra le altre cose le risposte alle domande fatte ai beneficiari delle misure e i numeri degli interventi messi in campo con risultati che a sei anni dal debutto di giovani si sono incoraggianti il modo milione per difendere le azioni gli interventi pubblici quelle di dar conto effettivamente dei costi dei benefici che le misure intraprese hanno prodotto in questi anni molto positivi gli effetti degli interventi dedicati ai tirocini e al co-working entrambi finanziati con risorse del fondo sociale europeo sono 38.065 i tirocini avviati nel 2015 contro gli 8.000 del 2009 che hanno avvantaggiato in particolare i giovani esordienti positivo anche il parere del 92 per cento dei giovani che hanno ricevuto un contributo per l'affitto fra 2012 e 2015 sono stati finanziati 4.138 contratti di affitto e sono state finanziate anche 1972 nuove imprese e nell'89 per cento dei casi sono di nuova costituzione. Io credo che una priorità sia quella di cercare di restringere il più possibile il tempo di passaggio, la transizione fra scuola, formazione, università e mondo del lavoro e quindi su questo cercheremo di lavorare sempre di più perché lo stiamo già facendo ma per costruire un sistema, ma per costruire ponti. I risultati della ricerca IRPET saranno ora utilizzati per affinare gli interventi del progetto Giovani Sì con miglioramenti alcuni dei quali sono già stati recepiti dalla regione toscana. Le difficoltà che i giovani incontrano oggi non solo sul territorio toscano sono molti, direi che la regione ha fatto veramente tanto, cerca di migliorarsi, noi abbiamo negli anni costruito un rapporto appunto un canale diretto di comunicazione anche con gli utenti proprio per andare a capire come possiamo intervenire meglio nei bisogni che loro esprimono. Il prossimo passo saranno ulteriori studi già al vaglio per valutare l'impatto degli altri interventi per gli under 40 che rientrano nel progetto Giovani Sì.